eccoci qua ragazzi finalmente nuovo video oggi è sabato e dopo un bel po spunta il sole e dato che il passo San Marco è aperto colgo l'occasione per andare a fare il passo San Marco Perfetto 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 Grazie a tutti. 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 Che posto. Spettacolare. Ehi... Se questo video vi sia piaciuto. Adesso sto provando a fare un altro tipo di ripresa. Ho cambiato. Un attimino la ripresa. Per vedere se va meglio. Una prolunga per rendere una prolunga. Una prolunga per rendere un po' più alta la ripresa. Appena appena. E niente. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Ciao. 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 Ciao.